Allora Mario Gregorio, dirigente nazionale dell'ICS, parliamo dell'ICS, l'associazione sportiva che lei oggi rappresenta. Quanti sport racchiude? Beh, se parliamo a livello di Brescia, che è il dato che abbiamo sotto mano maggiormente, diciamo che è un comitato che già da 46 anni opera sul territorio bresciano, è radicato, svolge tantissimi sport a tutti i livelli, l'ambito nostro è quello della promozione dello sport, partendo dai giovani per arrivare a tutte le fasce di età. Abbiamo un ricco programma che noi abbiamo stabilito di anno in anno, già nel mese di novembre scorso, 2011, che toccherà tutto l'intero anno del 2012. Ecco, la crisi investe un po' tutti, tocca a tutti, in particolar modo le associazioni come la nostra, che vivono con i volontari. Sicuramente noi ne risentiamo di più, cerchiamo comunque di onorare gli impegni che abbiamo assunti, però se troveremo delle difficoltà perché non avremo le risorse, ahimè dovremo tagliare qualche iniziativa. Purtroppo la situazione economica la conosciamo tutti, d'altronde chi ne paga poi le conseguenze sono i meno ambienti, naturalmente, e soprattutto le associazioni che vivono come la nostra a livello di volontariato. Abbiamo parlato di giovani, del settore giovanile molto importante, sia per il fine primo dello sport, che sono i vari obiettivi, ma anche per forse una formazione e un'educazione dei più giovani. Certamente, la formazione e la salute, perché è un binomio che viaggia insieme e soprattutto fa crescere i giovani e togliamo i giovani dai pericoli che conosciamo tutti e noi cerchiamo comunque di puntare maggiormente, tanto è vero che tante delle nostre iniziative a livello promozionale le facciamo naturalmente con iscrizioni a costo zero, per dire che vogliamo incentivare soprattutto queste fasce di età a favorire lo sport e naturalmente a inserire questi giovani domani nel mondo del lavoro, nel mondo sportivo, naturalmente se continueranno ad operare nello sport, a essere formati e terranno conto naturalmente di queste esperienze. Lo sport che va per la maggiore è sempre il calcio, come ovunque? Beh, noi il calcio è sempre stato un po' il traino, diciamo, però abbiamo all'interno delle nostre discipline molte attività che naturalmente stanno emergendo, altre che sono consolidate, teniamo conto che abbiamo dal karate alle arti marziali, dalla ginnastica al patinaggio artistico, e le bocce, il podismo e tantissime altre attività che naturalmente noi sviluppiamo nel corso della nostra stagione sportiva. Abbiamo detto che lo sport è importante per la salute, è importante anche però per, come dicevamo prima, per una formazione, quindi forse trovarsi all'interno di un gruppo è anche bello, è più facile e magari ascono dei valori da poi trasportare nella vita. Certamente, socializzare e naturalmente stare in squadra forma naturalmente questi giovani. Noi devo dire anche che collegati con noi abbiamo anche dei centri sociali, dove sviluppano un'attività al servizio naturalmente di chi ha difficoltà e devo dire che anche qui è una branchia che l'ICS sta portando avanti con il contributo naturalmente di questi nostri circoli e all'interno della nostra realtà provinciale è in una dimensione molto importante. Però ci vuole sempre impegno, 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 fatica e disponibilità da mettere a disposizione degli altri. Com'è iscriversi e dove trovare le informazioni? Beh, iscriversi basta chiamare l'ICS, la segreteria, che è aperta dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, dalle 15 alle 19. Lì possono avere tutte le informazioni, come affiliarsi, il costo della tessera, dove possono svolgere le attività, eccetera, eccetera. E in più attraverso il nostro sito che mettiamo a disposizione, che porta naturalmente tutti i dati, tutte le nostre iniziative, i calendari delle attività. Abbiamo detto che l'associazione è portata avanti dai volontari. Se qualcuno volesse diventare volontario? Beh, basta che si presenti all'ICS, che noi li accettiamo ben volentieri, perché abbiamo bisogno del supporto di tante persone per portare avanti tutti i nostri progetti, i nostri programmi.